Si chiama lei l'installazione che l'artista romagnolo Mauro Drudi allestirà nella chiesa di Sant'Arcangelo a Fano e che verrà inaugurata l'8 marzo alle ore 18 nella giornata della donna. Due grandi pannelli uno di fronte all'altro che riproducono lo stesso tema. Il bellissimo volto dell'annunziata di Antonello da Messina riprodotta più di 200 volte su supporti diversi e con un'espressione artistica in stile pop art alla Andy Warhol dove lo sguardo del visitatore viene guidato da una lunga fila di ceri. E' una cosa che è venuta per caso, non c'era un tema sociale o religioso alla base, c'era una ricerca artistica, puramente artistica e mi sono reso conto che però questo volto, la traccia che ho fatto di questo volto è una traccia quasi caravaggesca, cioè luce e ombre e basta. Questo volto ha una misticità tutta sua perché non ti guarda negli occhi ma guarda leggermente in basso sulla tua spalla quindi obbliga quasi lo spettatore a entrare dentro il quadro e a guardare i suoi occhi e a vedere dove guarda lei. Quando poi vedrete l'installazione che è abbastanza monumentale, sono due edifici pittorici lunghi 12 metri circa, 11 metri e mezzo e altri quasi 3 metri e mezzo e tutta in tarsio di quadri che rappresentano quella a sinistra, la donna negata o negativa, quella che non ha diritti che magari anche nella nostra società esiste però rappresenta un po' più una donna meno emancipata e da un'altra parte la donna apparentemente emancipata però guarda caso il volto è sempre lo stesso come a dire non fidiamoci delle apparenze. Una mostra che dà a Fano un'opportunità in più in una giornata particolare che invita alla riflessione sulla condizione della donna in maniera composta ma allo stesso tempo di grande impatto emotivo sia per location che per superfici scelte. Un messaggio che secondo me è molto intenso, la costruzione di due edifici pittorici, dei pannelli molto vasti con centinaia di repliche della stessa opera ma tutte diverse che parlano della donna nel positivo e nella negazione che questa società spesso le impone e quindi io credo che sarà un'installazione moderna che però fa di un'immagine che rappresenta la donna per eccellenza, l'avete già annunciata da Antonello è di fatto un'icona trasferita sul linguaggio, sul codice POP è una rivisitazione molto interessante.